Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Luke Talks. Oggi parleremo insieme a Rossella Pozzi, ricercatore e docente della Scuola di Ingegneria Industriale e laureata Luke, del valore di una laurea magistrale in Ingegneria Gestionale attraverso la testimonianza diretta di tre laureati Luke che dieci anni fa hanno affrontato questa importante scelta e ora sono professionisti affermati nel loro lavoro. Ringraziamo quindi Alessandro Di Fiore, Davide Canavesi e Iriana Setaro per la partecipazione alla puntata di oggi. Vi ricordiamo che durante la diretta potrete fare le domande inerenti all'argomento nella sezione commenti, domande a cui daremo una risposta alla fine della diretta. Nel frattempo che aspettiamo ancora qualche minuto per permettere a tutti di collegarsi, chiedo cortesemente alla regia di mettere l'immagine di copertina. Buonasera a tutti, io sono Rossella Potri, per la partecipazione alla fine della diretta. Ciao a tutti, sono ricercatore della Scuola di Ingegneria Industriale e i nostri ospiti di questa sera come diceva Federica sono, io partirei dalle signore quindi da Diana Setaro che è IT e Business Excellence Manager di Bosch Rexroth. Abbiamo con noi anche Alessandro Di Fiore, Customer and Order Specialist e il Stem Coordinator di Leonardo e infine Davide Canavesi, Senior Consultant di Gea. Ciao a tutti, io vi ringrazio molto per essere qua perché appunto avete, state usando del tempo del vostro pomeriggio e immagino che le vostre giornate siano abbastanza impegnate anche in questo periodo magari di smart working, in realtà Alessandro lo vediamo in ufficio e avete appunto accettato di usare un po' del vostro tempo per dare dei consigli agli studenti che si trovano oggi nella stessa situazione in cui ci siamo trovati tutti noi di fatto dieci anni fa perché noi eravamo tutti nella stessa classe, nella stessa aula di ingegneria gestionale ed eravamo proprio in questi mesi in procinto di laurearci con il titolo di laurea triennale e stavamo affrontando proprio in questo momento la scelta di iscriverci alla laurea magistrale. Allora io passerei subito a domandarvi quali sono stati un po' quegli elementi che avete valutato ormai dieci anni fa nel momento in cui vi siete trovati a compiere questa scelta. Non so se magari Alessandro in primis vuole rompere il ghiaccio rispondendo a questa domanda. Alessandro si è bloccato. Alessandro? Mi sentite? Si? Si, si. Ok, scusate ma la connessione oggi è veramente abbastanza complicata gestirla. Allora, relativamente alla prima domanda, la scelta che feci all'epoca dieci anni fa o meglio la base su cui feci il mio ragionamento era essenzialmente dove mi volevo vedere a dieci anni. Niente. Avrei voluto. Ale scusa, non ti abbiamo sentito proprio per un momento. Niente, la connessione non vuole saperne di andare. Non so se magari o Davide o Diana vogliono rispondere intanto che recuperiamo Alessandro. Aspettando Alessandro, lui accennava una visione più di lungo periodo, di via dieci anni. Io invece ricordo che dieci anni fa ero molto più sul breve periodo, semplicemente avevo dato per scontato il proseguimento del percorso con anche la laurea specialistica, successivamente a quella triennale. Perché comunque me l'ho trovato molto bene durante i primi tre anni di università e quindi sinceramente non avrei visto nessuna alternativa come valida tanto quanto proseguire il percorso. Comunque, conoscendo l'ambiente, conoscendo anche la bontà dei corsi, dei professori, sicuramente sarebbe stata la scelta più naturale e corretta per me e oggi posso confermare la bontà della scelta di allora. Esatto, una visione di prosecuzione. Ale invece che ti sei ripreso? Sembra connessione? Mi sentite? Sì, adesso sì. Niente, Ale oggi non vuole risponderci. Allora, c'è un po' di ritardo. Sì. Io vi vedo. Ok, c'è un po' di ritardo. Quindi stavo dicendo, la scelta che feci era cercare di immaginarmi come sarei stato dieci anni avanti. Ho ritenuto che fosse opportuno continuare la carriera anche nella laura magistrale perché dal mio punto di vista poteva darmi tutta una serie di skills, non soltanto diciamo prettamente legate alla laura, ma anche di partecipazione con altri studenti, lavori di gruppo, che poteva inizializzarmi in qualche modo la vita professionale che avrei affrontato da lì a un paio di anni a venire. E invece, Diana, tu hai avuto un percorso un attimo diverso rispetto a quello magari più tradizionale di percorso laurea triennale e subito magistrale una di seguito all'altra. Non so se vuoi parlarci di cos'hai fatto tu. Sì, la mia scelta è stata finita la laurea triennale in LUC di fare un Master of Science a Londra. In realtà non era un percorso organizzato, mi sono cercata io un indirizzo in ingegneria che mi piacesse. Però devo dire che ho trovato tantissima disponibilità sia nei docenti ma anche in tutto il personale LUC perché alla fine del Master, che dura appunto 12 mesi, quando sono tornata, mi sono vista alla fine riconoscere il grosso degli esami e ho potuto comunque poi laurearmi con la laurea magistrale in tempo l'anno successivo. Esatto, quindi diciamo un mix abbastanza flessibile anche rispetto a un percorso magari un po' più alternativo. E adesso che sono trascorsi ormai, è brutto pensarlo però, dieci anni, da quando abbiamo fatto queste scelte, continuate a pensare appunto che la scelta e la laurea magistrale sia stata un plus per appunto la vostra scelta. Cioè oggi confermate comunque il criterio che avete adottato o trovate qualcosa di diverso? Vado io? Parto io? Sì, vai. Ma senza alcun dubbio il beneficio maggiore è stato la, diciamo, sono stati gli apprendimenti, comunque tante nozioni apprese durante la specializzazione sono poi, le ho viste in prima persona nel mondo del lavoro, personalmente ho lavorato soltanto in consulenza in questi anni, ma devo dire che è sicuramente il percorso più azzeccato, quello di ingegnere gestionale, se poi si vuole fare un determinato tipo di lavoro, ma oltretutto io ho appena fatto un MBA l'anno scorso e sono rimasto sorpreso da quanto la maggior parte dei corsi di questo master fossero fondamentalmente uguali a quelli visti durante la specializzazione in Duke. Poi ovviamente i miei occhi e la mia testa erano diversi. Certo, avevi sicuramente qualche riferimento in più pratico, magari di casi visti. Assolutamente, quindi il plus vero del master è stata più che altro l'esperienza di lavoro riapplicata allo studio, ma come contenuti e come contà dei corsi sicuramente è una scelta valida. Esatto, quindi vai ad approfondire alcuni temi che poi vanno implementati nei progetti, magari o di applicazioni o di consulenza. E poi la cosa che anche mi piace notare tra tutti noi, vabbè, io sono nei percorsi magari è quello un po' meno tradizionale, quindi non in azienda, ma in università, però guardando voi tre di fatto vedo tre applicazioni completamente diverse, quindi tre tipi di lavoro molto diversi l'uno dall'altro. Esatto, esatto. Secondo me questo è fondamentale, nel senso che molti di noi, pensando alla nostra classe, eravamo estremamente curiosi e ognuno di noi alla fine ha abbracciato diverse discipline come la propria disciplina preferita. E credo che alla fine abbiamo fatto tutti dei percorsi interessantissimi, ma ognuno nell'ambito che gli interessava di più. Quindi questo credo che sia un aspetto di flessibilità che si sceglie per il proprio futuro. Esatto, e di varietà sicuramente. E invece la laurea magistrale, anche tu Diana, avere fatto un MBA, non all'estero ma a Roma, e invece la magistrale comunque è stato un prerequisito richiesto per affrontare poi l'MBA successivo. Quindi comunque è richiesto a livello di conoscenza a livello di laurea magistrale, quindi in alcuni casi può essere anche un prerequisito di fatto. Sì, esatto, è stato proprio deutico per poter accedere all'iscrizione. Esatto. Alessandro, tu rifaresti, diciamo hai le stesse considerazioni, quindi ti è servita davvero la laurea magistrale come pensavi dieci anni fa? A oggi confermi il fatto che... No, no, assolutamente. Assolutamente, assolutamente sì. Mi sono accorto che comunque quanto ho avuto modo di apprendere in quei due anni era ben diverso da quello che ho appreso nella laurea trennale, cioè gli dava già un taglio molto più professionale, molto più orientato all'ambito lavorativo e professionale. E un po', come dicevano anche i miei ex compagni prima, il fatto stesso di averla poi fatta così spalla a spalla, io e Davide siamo andati insieme anche in Erasmus a fare un semestre in Svezia, a studiare là per sei mesi. Il fatto di averla fatta così tanto spalla a spalla ha permesso di creare anche dei legami molto forti che poi si sono protrati nel tempo, a dieci anni di distanza siamo ancora in pieno contatto e nella vita privata, ma anche lavorativa, ci diamo supporto. Beh, questo sicuramente... Su tematiche molto variegate. Anche io ho avuto modo di spaziare, poi successivamente, grazie a quanto appreso, soprattutto nell'ambito, nella laurea magistrale, sono passato da un ruolo di, diciamo, commerciale back office, poi in un secondo step a fare il project manager in un'altra azienda e adesso invece mi occupo prettamente di logistica e supporto cliente. Esatto, quindi l'esame di project management per te è stato l'esame pietamiliare del tuo percorso in me. Assolutamente, assolutamente, sì. Ecco, riguardo proprio in particolare alle competenze gestionali, quindi come mai la laurea magistrale, ma soprattutto in ingegneria gestionale? Nel vostro lavoro quali sono le competenze che più, secondo voi, vi supportano? Vado io? Sì, sì. Allora, personalmente parlando, ritengo... Vabbè, innanzitutto... Mi sa che ci sei bloccato un'altra volta. Non lo so, magari volete andare avanti voi? Sì, se vuoi rispondo io. Sì. Personalmente nel mio lavoro apprezzo tutti i giorni la capacità dell'ingegneria gestionale è di avere una visione a 360 gradi. Ritengo che un reparto come il mio, che è un reparto di servizio e deve fondamentalmente abilitare il business, abbia la necessità di comprendere il business e capire come supportarlo al meglio. Ecco che un ingegnere gestionale in questo ha, secondo me, una visione decisamente avvantaggiata. Sicuramente, anche coordinare le persone che hai, obiettivi, avere una visione magari esatto più ampia di quello che dovete fare rispetto a magari una visione solo molto tecnica del contenuto. Esatto, esatto. E invece nella consulenza, Davide, quali sono gli aspetti più gestionali, magari? Ma mi trovo molto in linea con quanto detto da Diana, perché sicuramente la multidisciplinarietà è stata fondamentale nel mio percorso lavorativo perché, come abbastanza risaputo, in consulenza ogni progetto è diverso dall'altro fondamentalmente e si viene sempre in contatto con delle funzioni diverse delle aziende clienti e quindi aver avuto l'opportunità di studiare un po' tutto il sistema impresa dalla A alla Z sicuramente ha aiutato tantissimo poi anche nel lavoro. Nel relazionarsi anche col cliente, certo. Nelle relazioni e nella comprensione, diciamo, delle problematiche di business perché supportate poi da delle conoscenze, dagli studi durante la laura specialistica soprattutto. Certo, mi trovi d'accordo. Mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo. Ho cambiato telefono, quindi... Quindi hai la competenza della resilienza. Esatto, dobbiamo essere rapidi e disponibili a cambiare. Desilinenza. No, Ale, se magari avevi tu qualche spunto su competenze, qualche cosa che hai appreso nella laurea magistrale che poi ti è stato molto utile nel lavoro, dicevi project management e non so se magari anche l'esperienza Erasmus sicuramente in pari entra tra quelle esperienze che magari uno può affrontare alla laurea magistrale, quindi un po' più adulto e magari avanti col percorso di studio, che sicuramente ti ha agevolato poi nella carriera, anche non solo nel consolidare magari le amicizie o un metodo di studio, però anche il fatto che tu sicuramente hai frequentato i frequenti molto l'estero con il tuo lavoro. Assolutamente sì. Diciamo che appunto a livello di competenze, l'esame di project management insieme a tutte le tematiche affrontate anche a livello della specializzazione di manufacturing mi hanno permesso soprattutto di lavorare in un contesto manifatturiero perché soprattutto l'azienda dove ero prima era un'azienda metalmeccanica, come quella di adesso ovviamente, però si trattava veramente di un'azienda manifatturiera di medie e grosse dimensioni dove si aveva veramente a che fare con l'officina, la produzione, gli acquisti eccetera. Per quanto riguarda invece l'Erasmus, assolutamente anche quel contesto lì, il fatto di aver praticamente parlato per sei mesi solamente in inglese, mi ha permesso poi di affrontare il mio primo colloquio di assunzione solamente in inglese, il mio primo capo è stato americano e ho avuto altri due capi americani e quello che ho adesso è tedesco. Quindi l'ambito inglese, diciamo la lingua inglese è mai diventata, non è più un plus, sinceramente è richiesto come qualcosa da sapere. Certo, sicuramente. Ma ecco, invece altre esperienze che secondo voi hanno caratterizzato la laurea magistrale più rispetto che la triennale, quindi oltre il fatto che magari uno possa scegliere di fare l'Erasmus magari più avanti, altre attività o modi di affrontare i corsi che caratterizzano di più la laurea magistrale, secondo voi? Secondo me era stato molto il lavoro di gruppo. Io della laurea magistrale ricordo veramente il fatto che si lavorava parecchio in gruppo, su progetti e riprendendo questo e cercando di calarlo nella realtà odierna mi accorgo che quanto ho fatto allora mi permette oggi di lavorare veramente in un team. Io personalmente sono a carico di un team di dieci persone, anche più grandi di me, però questo quanto ho imparato allora a livello anche di dinamiche con i propri colleghi, come affrontare i progetti, problemi eccetera, permette ancora oggi di poter gestire le persone, dialogare con loro tutti i giorni, cercare di trovare soluzioni relativamente all'ambito lavorativo e così via. Quindi ho quel bel ricordo della laurea magistrale, il fatto che si potesse davvero lavorare parecchio in team. Altre impressioni invece che avete Diana o Davide? Se posso aggiungere, è un'esperienza che credo abbia pervaso un po' tutto quello che abbiamo fatto, soprattutto in laurea magistrale, anche se non è mai stato dato un nome probabilmente a questo tipo di esperienza, ma la verità è che tutti noi eravamo molto consapevoli del fatto che stavamo studiando e che nel momento in cui saremmo usciti dall'università avremmo avuto ancora tantissimo da imparare. Quello che vedo ancora oggi tra noi ex colleghi quando ci rincontriamo è che abbiamo avuto tanta umiltà, ci siamo affacciati al mondo del lavoro con tanta umiltà e credo che questo aiuti tantissimo, perché nel momento in cui comprendi di avere ancora tanto tanto da imparare, poi ti fa aprire la mente e vai veramente a capire dove sei, in che contesto ti stai muovendo e cosa puoi fare e cosa no. Quindi in questo credo proprio di sposare tantissimo quello che ha detto appena Alessandro, il rispetto nel lavoro di gruppo, capire i ruoli di ognuno e gestirli correttamente senza prevaricare gli altri, ma appunto dando spazio a chiunque, secondo me questo è importantissimo e abbiamo messo le basi durante la laurea magistrale. Davide, qualcosa da aggiungere? Una piccola nota, ovviamente condivido a pieno quanto detto da Diana e da Alessandro sulla bontà dei lavori di gruppo di quanto servono a crescere e poi anche a fare il salto nel mondo del lavoro, però da un punto di vista anche spettamente accademico la tipologia di apprendimento non è così nozionistica come magari può esserlo negli anni precedenti degli studi ma è più applicata poi a delle realtà che si troveranno a partire dal primo anno di lavoro in poi per gli successivi n anni ovviamente e quindi non solo lavori di gruppo ma anche come dire casi reali che fanno sono un bell'allenamento una buona palestra assolutamente Sì infatti io posso magari aggiungere anche la mia visione della cosa sicuramente rispetto alla laurea triennale dove magari i problemi sono più contenuti e più legati magari all'applicazione delle formule che si imparano sui libri di fatto nella laurea magistrale cambia la dimensione dei problemi cioè ci si rapporta con dei problemi più vicini effettivamente ai problemi reali che forse alla laurea triennale non sarebbe neanche opportuno affrontare perché appunto è meglio in quel momento forse affrontare in maniera diversa i problemi e poi andare ad approfondire solo successivamente sì direi che diciamo tutto sommato mi sembra che abbiamo tutti una visione positiva di aver fatto il percorso della laurea magistrale per appunto mille motivi e confermiamo tutti che se potessimo tornare indietro a dieci anni fa magari qualche cosa la cambieremmo però la laurea magistrale la faremmo lo stesso giusto? Assolutamente vediamo tra altri dieci cosa ne penseremo va bene vi ringrazio credo che forse ecco Federica si è unita sì allora ho visto che c'è una domanda su Facebook in realtà è rivolta principalmente a Di Fiore però in realtà lui ha già risposto quindi girerei la domanda a Davide e Diana chiedendo appunto se anche per loro l'esperienza all'estero può rappresentare un valore aggiunto per poi essere inseriti nel mondo del lavoro vai Davide come preferisci comunque la risposta è assolutamente sì è un grosso valore aggiunto uno di quelli principali e non solo ovviamente come diceva Alessandro il tema della lingua è fondamentale ma ancora di più l'opportunità di interagire con dei team composti da persone che vengono da altre culture aiuta anche tanto nella crescita ed è molto rivendibile poi anche a livello curricolare quando ci si interfaccia poi con dei recruiter durante il processo di selezione perché bisogna essere in qualche modo diversi un po' dalla media un po' oltre per spiccare e per avere un profilo più appetibile quindi un'esperienza all'estero è assolutamente un valore aggiunto io concordo pieno con quanto ha detto Davide anche io nel mio percorso ho fatto un Erasmus intriennale e il Master of Science di cui parlavo prima ne ho veramente sentito il bisogno ho sentito il bisogno di aggiungere qualcosa di nuovo al curriculum che non fosse il classico percorso proprio per fare più esperienze possibili nel momento in cui puoi sbagliare tranquillamente e ti puoi mettere in gioco con tanta serenità senza avere il dubbio della carriera o della professione quindi meglio farlo prima in maniera da essere più consapevoli dopo decisamente assolutamente va bene se non ci sono altre domande io intanto vi ringrazio tantissimo ancora di averci dedicato questa mezz'ora di stasera grazie mille grazie mille grazie a voi e anche ai nostri ospiti che hanno partecipato alla diretta di oggi vi anticipo che il prossimo appuntamento con Luke Talks sarà martedì 7 luglio alle ore 17.30 sempre in diretta sulla pagina facebook della Luke e vedrà la partecipazione di esponenti di prestigiose aziende come Selunga e Zaris che moderate dal prof Tommaso Rossi ci racconteranno le competenze che ricercano i laureati in ingegneria gestionale e le opportunità che si possono aprire in azienda per questo tipo di figura professionale quindi vi aspettiamo numerosi a presto a presto a presto a presto a presto